Un tuffo nel recente passato di lotte sindacali per la CGL di Napoli e Campania, per le celebrazioni dei 130 anni della Camera del Lavoro Partenopea. Nella sede del sindacato, gli ex segretari generali della Confederazione Costituita nel 1894 sono intervenuti in occasione dell'Assemblea Generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Napoli per la consegna della stampa in tiratura limitata dell'atto costitutivo sottoscritto il 6 gennaio 1894. Presenti i segretari generali Nando Morra, Michele Tamburrino, Nino Galante, Federico Libertino, Michele Gravano e Walter Schiavella. Le parole del segretario generale CGL Napoli e Campania, Nicola Ricci. 830 anni non sono pochi, storia di movimento sindacale di lotte e di conquiste andavano come vanno ricordate in questi mesi con tante iniziative. Con un obiettivo, hai ragione, è quello di guardare avanti perché la storia serve indubbiamente per preservarla ma soprattutto per dire che sindacato che CGL vogliamo nelle sfide che ci aspettano. Difesa della democrazia, difesa della Costituzione, grande senso dell'antifascismo, soprattutto difesa del lavoro, contro la precarietà e contro quello che noi diciamo da più tempo vanno salvaguardati i lavoratori, i lavoratrici, anche i cittadini. È un sindacato moderno che guarda al di fuori dei propri luoghi di lavoro. Grazie. Grazie.